E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Happy Wheels Siamo tornati, Red Heart Donation Come ogni volta, ah qui devo star fermo intanto, che bello Come ogni volta, stavo dicendo, cercherò se avete fatto dei miei livelli Io spero tantissimo di sì perché mi piacerebbe Poi non so voi, credo sia andato male amico Tab, vabbè, lascia stare Vabbè, provo a ristartare, vediamo Non tocco niente Magari ogni volta va sul caso, non so Oppure ha sbagliato proprio il signore Eh, ha sbagliato, ah Peccato Exit più meno Upload this week Facciamo un today Eh? Andiamo Pokemon or Digimon Non è quelle robe che scegli Allora Andiamo Pokemon O Digimon Io sono per l'area dei Pokemon Wrong Ah, non ti piacciono i Pokemon e quindi... Vabbè, vediamo Digimon allora Digimon Dai allora vediamo il Digimon Correct Fai schifo Cioè, non è che devi... Cioè Boh, vabbè Prof Level Antonio El Torreage Boh, è... Hard Walk Vediamo Vediamo, vediamo Ma che cavolo No, stavo vincendo lo stesso Ah, devo per forza far con questo Cavolo No Allora, aspetta No Che cavolo Eh, non è facile Che pelo Allora, se adesso vado qui sopra Lì ce n'è uno Quindi Non ci credo Non ci credo Non ci credo Appunto Ok Wow Ok Come prima Uh, sono vivo Devo fare solo così Ah Per favore Dai No, non ci credo No Non è possibile Dai Dai Sì No Non ci credo Ok Ma aspetta Resume Ah no Vabbè Exit menu My first level Level Play Ah, ne ha con il nonno Ma che cavolo Aspetta Quindi aspetta Io ho visto la vittoria Lì in fondo Aspetta 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 Change characters Babbo Natale È qui No, ho sbagliato Però va bene lo stesso Tanto Aspetta Ah Allora Io adesso vado qui Oh Mamma No Allora Vai all'indietro No No Ok Due monete La prendo Quella E quell'altra No Hai ragione Meglio prendere queste No Ma io quella Non posso prenderla No Vai qui sopra Bene Adesso vai qui Vai No Io se ne ho prego Sto livello Ma schifo Weapon run V1 Weapon run Quindi qualcuno Di veloce Il biciclettaro Si carichi Il livello Bene Quindi Il frame rate Al massimo E l'ho già perso Bene Voglio provare a fare Un botto run Bottle run Search Dai Bottle run extreme Chissà Perché Nessuno Gli ha dato Stelle Non ci credo Non ci credo Non ce la sto facendo Vabbè Resume No Proprio verso Exit menu Bottle run Extreme Vai Nonno Chuck Che schifo Ho paura A farlo con Nonno Chuck Ho fatto bene L'aver paura Aspetta Aspetta Sì ma io muoio Subito Allora Change Characters Questo è No questo è Eddie Mi pare Sì Eddie Non ci credo Per la catena No 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 Non ci siamo Chiari Ok Adesso ce la faccio Ce la faccio No È meglio con Eddie Chi se ne frega Non riesco a vincerne uno Bottle run Dexibderio Fai con nonno Io ce la posso fare No Ciao Perché non trovo nessuno No Proviamo Il mio I livelli con il mio nome Search Vediamo Nessuno Vi ricordo che se volete Potete fare un livello su di me Perché Cioè Come posso dire Intanto saluterò il creatore del livello E poi Lo giocherò Ovviamente Poi I livelli che potrei cercare Ball Trove Trove Spero si scriva così No Così Forse Sì Ball Trove Perché ci sono due razzi lì Due ball Unlock win Del Bello Borbello Questo gioco Questo gioco È violento Smile Dead Ma che cavolo però Sono vivo No Non ci credo No Posso fare la cavolata di turno Dai Dai Esci Allora Devo fare Tipo Da Vabbè Tab Più R Cosa che dice Hardcore win No Nessun modo Dai che è difficile Bumba Almeno uno fatto Cavolo Poi Bullthrow Epic Vediamo No Diamo il Fruit Aspetta Aspetta Però Cioè Non si riesce a vincere Ma sto Bullthrow È Facile Io sono vivo Che morte è Scusa Ciao Ciao Bumba Cioè Ciao perché Sono morto Ma dai Ma non Cioè io l'ho messo così Non ho appoggiato Cavolo Allora Io ce la posso fare Ale Eeeh Ah Vinci così Allora Tab Exec To Menu Bullthrow Bullthrow 3 Oh mamma Che bug Dov'è voglio provare quello 3 lì Bullthrow 3 lì Oh mamma Si capisce niente Dead 2 Tap 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 più R Non tab Ma che Dimmi Che Ma che No Ciao Teme No Mi sta facendo vincere Due polle No Non ci credo Sbomba E perché non mi hai fatto vincere Ma Ma io L'ho lanciata Ma la palla l'ho lanciata su win Ah E' son parato No Dai Non ci credo Cos'è affambrolo Bullthrow Easy Perché faccio schifo E quindi Non ho bisogno di Forte E' in italiano Aspetta No Aspetta Tab più R Aspetta Qua ci si può lanciare Cinque palle Grande Oh Oh Non ci credo Oh Sono vivo Ma non posso prendere le palle Che cavolo Allora Comunque saluto Dog 2000 Cioè Cos'è 20 2012 Per aver fatto il livello Anche se magari non è un mio fan Non è un mio iscritto Però è un italiano Ed è già tanta roba Ce la posso fare Mi butto Allora Vabbè Ciao però È il tuo livello Non riesco a finirlo E non è easy Voltrò Ah vabbè Ma è facile Certo Le ultime parole Le famose Ma no Comunque ragazzi Per questo video Io credo sia tutto E noi ci vediamo al prossimo Bella ragazza